Ben ritrovati, siamo alla seconda parte dei nostri confronti elettorali in vista delle elezioni europee di domenica prossima. Allora, non per lo tempo, vi presento subito i nostri ospiti a partire da Renate Olzeisen di Più Europa. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Con noi c'è anche Ivo Tarolli, candidato di Popolari per l'Italia. Buonasera. E poi Maurizio Pugliesi Ghizzi di Casa Pound. Buonasera. E poi Atos Gualazzi del partito Pirata. Buonasera. Buonasera a lei. E' a lei in questo caso non un candidato come gli altri, ma uno dei fondatori del partito che qui lo rappresenta. Allora, iniziamo subito direi spiegando in breve il senso della presenza della vostra lista a queste elezioni europee. E magari parto proprio da Gualazzi che ci spiega anche un po' qual è la vostra lista, come è nato il partito Pirata. Mi permetto di dire, è un partito, una realtà che si fonda sul sottolineare i pregi e i difetti di internet, diciamo, che in qualche modo è usatissimo dai politici, soprattutto in campagna elettorale, ma che dalla politica poi, per quanto riguarda ad esempio regolamentazione o meno, non è ancora molto considerato. Fatta questa premessa, ci presenti il partito Pirata e il perché della presenza alle elezioni europee. Direi che il partito Pirata nasce sostanzialmente in concomitanza con alcuni avvenimenti che sono succeduti nel 2006 e si è propagato praticamente in tutto il mondo. E' un partito che è sostanzialmente mondiale, più che oltre europeo. Solo dal 2014 è stato sancito come europeo. La nostra missione è quella di sottolineare che praticamente stiamo assistendo alla stessa rivoluzione che c'è stata quando Gutenberg ha inventato i caratteri di stampa. Abbiamo uno strumento, perché internet è uno strumento, che è sostanzialmente usato malissimo nella nostra epoca. Sarà uno strumento che sarà fondamentale per il futuro, perché pensiamo solo al discorso dell'internet delle cose, quindi tutta la casa collegata in internet con la possibilità di gestire la casa da chilometri di distanza. Quindi questo concetto, che non è stato ancora forse sufficientemente sottolineato, comporta una rivoluzione sostanzialmente di carattere culturale. Bisogna vedere il mondo innanzitutto come una palla unica. Io posso parlare in tempo reale, praticamente, con la Nuova Zelanda, come con il vicino di casa. Non c'è alcuna differenza. E' uno strumento che annulla gli spazi e il tempo. In questa ottica va utilizzato, perché è come se avessimo in mano una Ferrari e la utilizziamo nel cortile di casa. Oggi come oggi, con la possibilità che hanno avuto i big, i primi che si sono affacciati sul mercato, di costituire sostanzialmente un monopolio, abbiamo un sistema che è assolutamente sbilanciato nei confronti dell'utilizzo dello strumento. E anziché essere utilizzato a livello sociale e per il bene comune, noi riteniamo che Internet sia un bene comune, viene utilizzato sostanzialmente per sfruttarlo, sfruttare le possibilità che questo dà dal punto di vista... Quindi è potenzialmente uno strumento democratico, di fatto rischia di non esserlo. Ovviamente poi avrete altri punti del vostro programma, al di là delle origini di questo partito. Grazie della sintesi. Allora, Pulisi Ghizzi, ci spiega la presenza di Casa Pound a queste elezioni europee? Sì, è semplice. Il nostro programma e la presenza è quella di... Noi chiediamo, e il nostro punto principale e unico punto del programma è l'uscita da questa Unione Europea. L'uscita da questa Unione Europea perché comunque per noi l'Unione Europea rappresenta una gabbia che non ci dà la possibilità di sfruttare bene le nostre potenzialità. Sostanzialmente lei, Casa Pound, fa parte di quei partiti che sostengono che l'Europa non sia un'occasione ma sia in qualche modo un limite agli Stati. Sì, questo sicuramente. E poi siamo rimasti gli unici anche a sostenere che non possiamo cambiare l'Europa da dentro come alcuni partiti in questo momento e alcuni colleghi pensano di fare. Perché? Perché per cambiare le regole all'interno di questa Unione Europea ci vorrebbe la maggioranza, cioè la totalità di tutti i Stati membri. Siamo sicuri che non troveremo qualcuno che vada a votare contro i propri interessi. Anche perché in questo momento l'Unione Europea rappresenta esclusivamente gli interessi di Germania e Francia alle nostre spalle. Tarolli ci spiega la presenza di Popolari per l'Italia a queste elezioni? Popolari per l'Italia è una lista, è evidente. Se siamo alle elezioni è perché abbiamo presentato una lista agli elettori, una proposta politica elettorale. Ma Popolari per l'Italia è qualcosa di più di una lista. è un progetto politico che stiamo predisponendo ormai da quattro anni, girando per l'Italia, che ha come obiettivo quello di riunificare le tante esperienze cristianamente ispirate in giro per l'Italia e che ha l'ambizione di presentare un progetto per l'Italia ma che serva all'Europa e all'intero occidente. Quindi è più che non una lista elettorale. Certo, in queste elezioni abbiamo mandato il cuore oltre l'ostacolo e si sa che quando si entra in politica si paga anche il prezzo di accesso. Quindi sappiamo che davanti a noi ci sono difficoltà ma bisognava cominciare e quindi siamo contenti di presentare l'elettore di questa proposta sapendo che non termina il 26 ma è solo il primo passo per costruire un nuovo soggetto politico in Italia. È un primo test diciamo in questo senso. Olshaizen, il vostro partito ha l'Europa nel nome quindi? Assolutamente, noi siamo sicuramente contrari alla distruzione dell'Unione Europea che sarebbe veramente un grande disastro. giocheremmo il futuro dei nostri figli. È assurdo pensare che singoli Paesi membri riescono ad affrontare i problemi, le situazioni con le quali già siamo confrontati. Penso al problema climatico, alle necessità appunto nella tutela dell'ambiente, a tutte le questioni sociali per i quali proprio l'Unione Europea è un grande garante. Io vorrei ricordare agli aspettatori che abbiamo già una bellissima piccola costruzione europea che è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che contiene un capitolo 4 che si intitola Solidarietà e che prevede appunto con il quale il legislatore comunitario a livello di valore giuridico dei trattati dell'Unione Europea, dunque a livello primario, invocabile da qualsiasi cittadino in ogni Paese membro, prevede il diritto fondamentale alla tutela della salute, alla tutela dell'ambiente, alla tutela dei lavoratori, il diritto fondamentale ad una rete sociale. Dunque, peraltro sono gli stessi sindacati che in occasione di questa campagna elettorale evidenziano la circostanza che è proprio la normativa dell'Unione Europea che è garante, per esempio, dei diritti dei lavoratori. Vorrei evidenziare che la Corte di Giustizia Europea, proprio con una sentenza che è uscita la settimana scorsa, ha confermato l'obbligo dei datori di lavoro di registrare esattamente gli orari di lavoro effettivi dei propri dipendenti. Dunque vediamo che l'Unione Europea, se noi cittadini e politici poniamo l'accento anche sul sociale, è tutt'altro che soltanto un club dove appunto si realizzano interessi economici, ma è il garante dei nostri diritti fondamentali. E noi come lista più Europa, essendo un movimento politico social-liberale con tanta sensibilità ecologica, lottiamo alla difesa di questa Unione Europea. Chiaro. Allora, ripartiamo proprio da lei e proprio dal concetto di Europa. Lei ha posto l'accento su un aspetto che magari, come diceva lei stessa, non molti considerano, quindi il fatto che i cittadini possano sentirsi anche più tutelati sotto il tetto comune dell'Unione Europea. Adesso un po' a tutti volevo chiedere invece la prospettiva politica, perché abbiamo qua, abbiamo sentito i due opposti, chi vuole uscire dall'Unione Europea e chi vuole anzi rafforzarla. Dal punto di vista politico il CISEN va rafforzata, adesso si parla tanto, il focus è sul ruolo degli stati. Devono ancora cedere sovranità agli stati per rafforzare l'Unione Europea? Vanno cambiate le istituzioni come sono attualmente? C'è qualcosa da lavorare in questo senso? Assolutamente sì. Va rafforzato innanzitutto il Parlamento Europeo. È chiaro che devono essere innanzitutto i deputati europei, cioè le persone direttamente elette dai cittadini ad avere maggior voce in capitolo. Ecco, lo dicevamo anche prima nel precedente dibattito, il Parlamento Europeo attualmente non ha un potere legislativo come quello magari che ha il nostro Parlamento italiano. Sì, lo ha soltanto insieme al Consiglio. Insieme al Consiglio. E dunque, la stessa Commissione Europea, che è praticamente il Governo, deve essere riformata. Cioè non è pensabile che ciascun Paese membro, a prescindere dalla sua grandezza, dal numero degli abitanti, abbia lo stesso diritto a nominare un membro della Commissione europea. Dunque, per essere più efficace il Governo europeo, deve essere diminuito il numero dei membri della Commissione. E per i Paesi più piccoli, come per esempio Malta, che allo Stato ha lo stesso diritto di nominare un commisario, come lo ha l'Italia o la Germania o la Francia, chiaramente qualcosa che non è ragionevole, per questi Paesi più piccoli potremmo prevedere, per esempio, il principio di rotazione per un certo numero di commissari, in modo tale che anche loro possano appunto avere poi la partecipazione a livello governativo, oltre a quello parlamentare. Poi, chiaramente, dovremmo, e in questo noi come cittadini dell'Alto Adige e Trentino, accentuare più gli interessi delle regioni, cioè l'unione, la necessità dell'unione col rispetto delle diversità. Cioè, essere uniti non significa di praticamente livellare tutto, anzi, più accentuiamo appunto la pluralità delle culture, iniziando anche dalla formazione linguistica dei nostri figli. Io appartengo, tra l'altro, al partito di opposizione più grande dell'Alto Adige, Tim Koensperger, che praticamente è nato neanche un anno fa e sono candidata sulla lista più europea. Noi chiediamo proprio una formazione plurilingue in italiano, tedesco e inglese, fin dalla tenere età, in modo tale che i gruppi linguistici in Alto Adige riescono a condividere effettivamente le loro culture, la loro vita quotidiana. Questo ci porta in Europa e se lo facessimo un po' dappertutto, allora avremo meno appunto malintesi, perché anche tutti questi sovranismi, tutti questi slogan spesso derivano proprio da tanta ignoranza. Poi torneremo anche proprio sul questione dell'identità locale ed europea. Andiamo dall'altra parte, Pugliesi Gizzi ci ha spiegato il perché secondo Casa Pound invece l'Italia dovrebbe uscire dall'Europa, un'Europa che diceva non si può, come dire, cambiare da dentro e quindi il segnale forte è uscirne. Le faccio due domande. La Brexit però e tutte le difficoltà che sta affrontando, non insegna che non è poi così agevole e così... Guardi, la blocco subito, no, perché la Brexit in questo momento è stata bloccata non dai cittadini inglesi, ma dal Parlamento inglese e questa è una differenza sostanziale. Adesso stiamo andando incontro, credo che l'Inghilterra voti domani, dove il primo partito che vincerà le elezioni europee, che ho torto collo loro sono costretti a fare perché non hanno completato l'uscita dall'Unione Europea, è quella di Nigel Farage e si attesterà intorno al 40%. Perciò voglio dire, io voglio dire ai cittadini e voglio spiegare che fuori da questa Unione Europea c'è il mondo, non c'è la terra piatta, usciamo e cadiamo in un buco senza fondo. Abbiamo la possibilità di interagire, commerciare e alle nostre condizioni con stati sovrani che sono gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, il Giappone, la Corea, ad esempio ci sono stati come il Giappone che sono molto simili a noi, noi potremmo guardare a questo modo di condurre l'economia e vivere al di fuori da questa Unione Europea. Hanno un debito pubblico, per quanto spaventoso possa essere rispetto al nostro, hanno un rapporto di deficit diverso ovviamente da quello che ci viene imposto, però sono una delle prime economie al mondo, funziona tutto come deve funzionare e hanno, mi sembra, il 2% di disoccupazione. Quindi lei risponde anche a chi dice che i singoli Stati europei poi finirebbero per essere schiacciati anche da altri, lei dice, ci sono esempi che in realtà ci dicono Siamo già stati schiacciati, perché se noi pensiamo che non più tardi di qualche mese fa da Quisgrana, Francia e Germania si sono messi d'accordo per riuscire a fare una politica che facesse comodo a lui alle spalle nostre, beh insomma penso che sia chiara la... C'è un size che scalpita, brevissima però perché... Vorrei evidenziare che in Inghilterra già le ultime elezioni che sono quelle a livello comunale hanno fatto vedere la vittoria dei liberal democratici che sono per il pro Unione Europea, tanti soprattutto giovani dell'Inghilterra sono andati sulla strada proprio per chiedere la... di poter rimanere in Unione Europea, non è assolutamente vero quello che lei sta dicendo. In più, in più, cioè paragonando l'Italia che fa parte del continente europeo con il Giappone che peraltro ha delle... lavora nell'ambito degli associazioni di stampo asiatico è veramente fuori da ogni ragionevolezza. Beh, il discorso dei giovani, questo è anche... ci sono... c'è una categoria di persone, di giovani anche in Inghilterra che non hanno mai avuto... sono nati all'interno dell'Unione Europea, perciò non sanno che cos'era prima e io dico da quando siamo entrati nell'euro noi ci siamo impoveriti ed è sotto gli occhi di tutti, cioè prima quando avevamo la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità nazionale, con uno stipendio medio-alto una famiglia riusciva a comprare casa, mettere al mondo qualche figlio e comprarsi e avere un lavoro fisso, stabile e duraturo. Oggi con due stipendi in euro, sempre che ci sia la fortuna di averli, tutto questo non si riesce a realizzare. Tarolli, come si pone lei fra i due estremi, in mezzo fisicamente in questo momento? No, 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 figuriamoci, io dico in maniera molto netta, senza... noi abbiamo bisogno dell'Europa come l'ossigeno, cioè l'Europa per noi è una cosa imprescindibile perché il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, in questi ultimi vent'anni sono emerse delle economie che sono diventate dei giganti all'est, come all'ovest dell'America Latina, per cui pensare che l'Italia, che ha una condizione economica che in questi ultimi anni non può che preoccupare, perché non siamo in ginocchio, siamo più che in ginocchio e pensare che noi da soli siamo in grado di... siamo fuori dal mondo, siamo fuori dal mondo, cioè noi abbiamo bisogno di Europa, ma abbiamo bisogno di un'Europa che metta una marcia diversa rispetto a quello che sta facendo adesso. In che direzione? Sviluppando, facendo crescere di più il concetto di comunità, cioè o si sta assieme e se si sta assieme tutti hanno da guadagnare, lo stare assieme vuol dire che bisogna essere più integrati, almeno alcune cose, cioè è patetica la sfida dell'Italia con la Francia in Libia, da ridere nel 2019 che l'Italia e la Francia vadano in Libia a contendersi che cosa? Quando invece una politica europea intelligente gestisce c'è i problemi dell'energia con intelligenza, quando una politica fatta assieme per regimentare e governare, perché il problema dell'Europa è questo, deve governare i processi nella finanza, nella immigrazione, nella politica estera, se l'Europa fa questo e torna ad essere quella che era, perché quello che io sto dicendo non è che è un sogno, c'è stata una fase, quella iniziale, dei padri fondatori, tutti e tre del filone culturale cristiano sociale, sia Adenauer, sia Schumann, sia De Gasperi, che l'Europa guidava le democrazie nel mondo, era il faro, poi a un certo punto l'Europa, si sono affermati gli egoismi, non solo degli stati, l'Europa è andato in cortocircuito culturale, è emerso in maniera preponderante questo super ego, cos'è il super ego? Cos'è il super ego? È l'incapacità di farsi carico dei problemi di chi ti sta vicino, è l'incapacità di declinare il principio straordinariamente positivo della libertà. Ma come se ne vieni a capo ad esempio, cambiando anche proprio i rapporti fra gli stati? Ma no, la buona politica, la buona politica, insistere con la buona politica, le idee vincono, le idee hanno sempre vinto, magari faranno fatica, guardate che Giovanni Paolo II con un'idea, la libertà religiosa come fondamento della dignità della persona umana, un'idea ha sovvertito l'Europa, non aveva eserciti, non aveva bombe atomiche e ha fatto la rivoluzione, quindi se abbiamo un'idea buona si tratta solo di veicolarla, di impegnare. Dipende più dalle persone, dai politici che dalle istituzioni, come dire, vuote, come scatola vuota. Gualazzi. Ma io dovrei fare un attimino un passo indietro e sottolineare che noi siamo costituiti in assemblea permanente. Questo vuol dire che non abbiamo praticamente, non abbiamo leader, non abbiamo governanti che ci governano come stanno governando attualmente l'Europa e concepiamo la democrazia in maniera futuristica, diversa dall'attuale. Gli strumenti li abbiamo, non li sappiamo usare, per il momento non li possiamo usare, perché come dicevo prima che non c'è tempo e non c'è spazio praticamente, è possibilissimo che il governo dell'Europa sia costituito dai popoli, non dalle commissioni, dai parlamenti, dai delegati, dai leader, sempre rimandare ad altri. E ora è tempo che la gente, ciascuna persona, si assuma la propria responsabilità e partecipi alla politica direttamente. È inutile andare al bar e reclamare governo ladro, perché piove. E ora è tempo di aprire l'ombrello, interessarci tutti quanti di politica, inserirci nella politica, chiedere che l'Europa, innanzitutto la democrazia prevede che ci sia una suddivisione di poteri e la suddivisione dei poteri in Europa l'hanno fatta in modo completamente diverso da come è in Italia ad esempio. In Italia il Parlamento nostro deve legiferare, il governo deve attuare le leggi fatte, a parte il fatto che ultimamente ci siamo dimenticati anche di questo, per cui abbiamo un governo che fa le leggi e le impone al Parlamento dietro ricatto di non portare più a elezione il proprio sodale. Quindi voglio dire, dobbiamo fare davvero un passo avanti, non a caso credo che il Partito Pirata a livello europeo, per non dire anche a livello mondiale, dove tra l'altro il nostro programma che è reperibile sul nostro sito partitopirata.it tradotto in italiano, in inglese, francese, tedesco, spagnolo e nelle varie lingue, comprende praticamente un po' tutto quello che è lo scibile, quello che sono le necessità e suggeriamo anche parecchie soluzioni, forse non è il caso di dilungarsi adesso in questo breve periodo, però davvero bisogna vedere il mondo con un altro occhio, bisogna che, è vero, dobbiamo aiutare gli estracomunitari, li dobbiamo aiutare a casa loro, ma prima di tutto non portando via quello che hanno, dobbiamo aiutare a casa loro condividendo, ecco forse la parola che dovremmo imparare ad utilizzare, condividendo il sapere e condividendo le necessità, perché le necessità sono comuni a tutti i popoli del mondo. Il problema è che abbiamo delle sovrastrutture, secondo noi governi, delegati e via dicendo, sono tutte delle sovrastrutture che servono solo a riempire le tasche a qualcuno e a lasciare la gente praticamente dispersa e priva di indicazioni. Quindi io direi che se cominciamo a vedere il panorama sotto un'altra ottica ed evitiamo di dover, perché è una battuta stupida, lo definisco io, allora il potere contrattuale dell'Italia è paragonabile al potere contrattuale di un fruttivendolo di un paesino tipo Isera, per darne un'idea, rispetto alla LILD, rispetto ad una multinazionale che lavora in Italia, che potere contrattuale ha. Credo che sia lampante questo esempio, per cui l'Italia non può uscire dall'Europa, non può uscire dal mondo, non può farsi un'isoletta deserta o un pianeta fuori dalla terra. Siamo su sta palla e su sta palla dobbiamo rimanere. Allora, grazie, lo accennava prima, la questione migratoria che è uno dei temi forti sia in Italia che poi per quanto riguarda l'Europa, sia anche proprio nel rapporto fra l'Italia, l'Europa. Come va gestita questa grande sfida, Carolli, quella dell'immigrazione? L'immigrazione è un problema, ma guardi che il problema dell'Europa non è l'immigrazione, il problema dell'Europa è l'inferno della povertà che ha preso interi stati, questo è il problema dell'Europa. Il problema dell'immigrazione è un problema di gestione di governo di un fenomeno. Il problema numero uno degli europei è che ci sono interi stati, la Grecia, la Spagna, una quota d'Italia, una quota di Francia, che sono nell'inferno della povertà. I dati, l'euro statistica, ci sono 125 milioni su 530 che sono dentro, non il rischio di povertà, dentro la povertà. Ma poi nasce la guerra tra poveri italiani e poveri migranti. Il tema non è enfatizzare oltre misura un problema che va governato nella misura che bisogna rimettere mano a Dublino, bisogna fare la politica di frontiera, bisogna governare la rivista. Il vero problema è che l'Europa deve uscire da questa situazione per cui l'obiettivo della politica finanziaria, della politica europea è la stabilità, quando invece, faccio un esempio concreto, nella Federal Reserve che gestisce gli Stati Uniti d'America da 200 anni, l'obiettivo della stabilità è accompagnato dall'obiettivo della piena occupazione e quindi quando ci sono le grandi crisi, sentite parlare di questa tonnellata di miliardi di dollari che la Federal Reserve butta sul mercato e inverte sempre la tendenza. Noi siamo dentro da 15 anni in un circuito perverso perché domina questo totem della stabilità e dell'austerity da qui noi non veniamo fuori, lì bisogna modificare perché quando poi gli Stati diventano e quando ho detto l'inferno, perché? Perché non bisogna pensare che la povertà la si gestisce con la carità umana, con la carità cristiana, con la solidarietà che sono sentimenti individuali che vanno, ma si contrasta con politiche e qui l'Europa è carente e qui è carente. Se si risolve il problema della povertà degli europei in qualche modo si diventa anche più accoglienti nei confronti poi di che arriva chiaramente poi Normandoli. Guarazzi, stavamo parlando della migrazione. Ma il discorso della migrazione, innanzitutto devo sottolineare per l'ennesima volta che il partito pirata ad esempio non concepisce i confini. Per noi i confini non esistono sostanzialmente, soprattutto nel campo digitale. Parlare dell'Italia o parlare della Francia o parlare della Germania è una mera convenzione politica dovuta a tutta la storia che abbiamo alle spalle. Quindi, come dicevo anche prima, dobbiamo cominciare a vedere il mondo sotto un occhio di casa nostra. Tutto il mondo è casa nostra. Non ci sono... Cioè, lei dice non solo nel mondo virtuale ma anche nel mondo reale e senza confini. Ma il mondo virtuale è il futuro ed è lo specchio di quello che è il mondo attuale. E quindi sul fronte dell'immigrazione? Sul fronte dell'immigrazione non possiamo far altro che condividere quello che abbiamo, quello che sappiamo e quello che possiamo fare. È inutile regalare al contadino africano il trattore. Bisogna insegnargli a costruirlo, a manutenerlo e ad alimentarlo. Allora lo aiuti. Ma se noi ci teniamo i nostri brevetti, perché poi dovremmo anche andare a parlare di questioni di brevetti, se noi ci teniamo i brevetti che sono in certo qualunque un obbrovio, perché con la scusa della ricerca sostanzialmente si brevettano addirittura il DNA del genoma umano, cosa assolutamente impensabile, illogica, ma proprio non ho altro termine per stabilire che brevettare il genoma dell'uomo è quanto di più idiota possa fare l'essere umano. Ragion per cui se, ripeto, la condivisione, e qua va oltre la condivisione, va oltre la solidarietà, perché la condivisione vuol dire anche sollecitare da parte di chi riceve la condivisione una contropartita, vuol dire collaborare, vuol dire restituire praticamente quanto riceve. L'intelligenza collettiva, sulla quale noi puntiamo molto, non è una media dell'intelligenza. Se sommiamo l'intelligenza di quattro scienziati e di quattro imbecilli, chiamiamoli così, non è detto che 400 più 4 faccia 240, 202, quello che è la media. No, diventano 408, perché anche chi dice la barzelletta, chi dice la fesseria, comunque contribuisce, per una virgola, per un et, per un qualche cosa, contribuisce a formare il pensiero collettivo. Pugliesi e Ghizzi, come si gestisce le politiche? Ma guardi, io le dico, hanno spiegato bene anche i due colleghi che mi hanno preceduto, cioè si è capito che questa Commissione europea, il Parlamento europeo non ha peso, dovrebbe essere modificato, pertanto è vero perché i parlamentari europei hanno tre minuti a testa per parlare e non contano niente, la Commissione europea non fa quello che deve fare, non è composta come dovrebbe essere composta e quant'altro. E poi il problema della povertà, il problema della povertà, abbiamo capito, è arrivato con l'ingresso nell'euro, la forbice tra le persone, i ricchi e i poveri si è ampliata tantissimo e il problema dell'immigrazione si risolve sempre uscendo dall'Unione europea, il ripristino di un confine ad esempio a est dell'Italia, dove siamo con la Slovenia, Unione europea fuori, Unione europea dentro e ogni anno passano 60.000 persone che utilizzano l'Italia come una passerella per andare a, vorrebbero andare in Germania, in Austria, in Olanda, in Francia per godere del loro stato sociale, non riescono perché siamo costretti da questa Unione europea a tenerli qui da noi e ovviamente si risolve in questa maniera, non è che ci vuole molto. A me viene da citare anche chi anni fa, Bettino Craxi proprio, disse quando gli venne richiesta cosa voleva significare questo ingresso nell'Unione europea o tutto, lui dice per bene che ci andrà, l'Unione europea sarà un limbo e difficile, ma nella realtà diventerà un inferno perché i parametri e le norme che vengono applicate ci costringeranno in una gabbia in cui noi staremo male. Paul Saizen, per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, l'Italia spesso ha detto siamo rimasti soli, l'Europa ci ha lasciati soli anche in virtù del Trattato di Dublino che prevede che si faccia carico della prima accoglienza il paese di primo approdo. Sì, allora per quanto riguarda l'immigrazione legale è ovviamente chiaro che ci deve essere la massima solidarietà tra i diversi paesi membri, non è assolutamente accettabile che paesi membri dell'Unione europea come l'Ungheria e la Polonia appunto non accettano di fare il suo, di contribuire la loro parte. Partendo dalla necessità di una politica unitaria per quanto riguarda l'immigrazione, sono anch'io però convinta che dobbiamo avere la massima trasparenza sulle cause che appunto portano a lasciare masse di persone le loro terre. perché se vedo che praticamente bambini, dunque persone non maggiorenni, madri incinte fanno questa, cioè tentano questo tragitto poi con un, che finisce in, rischiano di morire e la maggior parte muore, questa è la realtà e ci sono appunto i sovranisti che chiedono di farle morire nel mare, è una cosa per me che urta assolutamente con i più banali principi di umanità. Allora noi sicuramente dobbiamo richiedere a livello europeo e per questo abbiamo un'ottima chance nell'ambito del Parlamento europeo che si faccia chiarezza con tutta la trasparenza, anche se poi le risposte che ci arrivano forse sono anche scomode per certi multinazionali di timbro comunitario, come sappiamo che anche la Cina, questo collosso economico potente, ne combina di tutti i colori in Africa. E dunque per me è assolutamente inaccettabile che siano singoli paesi meme dell'Unione Europea come l'Italia, ma non solo, che attualmente stanno facendo degli accordi con la Cina nell'ambito della via della seta, dove sicuramente non si parla di questi problemi, perché coloro che causano, che creano le cause per le quali appunto intere zone si spopolano in Africa, devono essere resi responsabili. Vorrei fare un esempio, perché abbiamo parlato della politica economica e sociale dell'Unione Europea, anche su questo vorrei dire una cosa, perché poi il cerchio si chiude. Brevissima, perché è trevissima, però in certe cose bisogna appunto dire. Abbiamo nell'ambito della comunità europea, chiaramente una politica dell'agricoltura che finanzia soprattutto i grandi colossi dell'agricoltura e non i piccoli contadini. Produciamo appunto degli esuberi enormi di alimenti che poi vengono venduti con prezzi dumping, per esempio in Africa, laddove i piccoli contadini che praticamente con ciò che producono non riescono più a competere. neanche l'Europa deve risolvere delle grosse contraddizioni al suo interno. Ma certo che risolvere, però un'ultima parola per chi... Vado in pubblicità, vado in pubblicità, ritorniamo insieme. Siamo di nuovo insieme, stavamo parlando di Europa, stavamo parlando dell'Europa dei diritti, perché ne abbiamo parlato molto, dell'Europa anche nei confronti degli altri popoli e ne abbiamo parlato riguardo all'immigrazione. Vorrei chiedervi una cosa, però chiedendo di essere un po' brevi perché poi finiremo il nostro tempo. Come si costruisce un'identità europea? Da dove si deve partire? Da che diritti o da che origini comuni, diciamo così, si riparte cercando di essere, non dico un po' più simili perché lo avete detto voi stessi che la diversità è importante, però un po' più europei. Tarolli? Noi non abbiamo dubbi che l'Europa debba ritornare a investire sulle sue origini e le sue origini piaccia o non piaccia sono le radici giudaico-cristiane, che vuol dire comunità, che vuol dire imparare a condividere. Vedo che tante cose anche in questo dibattito vengono, tra virgolette, sottolineate. La condivisione è una cosa che ha benefici straordinari e sostengo che sono radici giudaico-cristiane, ma faccio due esempi per dire come questa matrice possa servire. Pericle non era giudeo, viene prima quasi, e Pericle nella gestione della Gorà e della cosa pubblica del tempo dice un individuo che non si occupa della propria comunità non solo è innocuo perché dice non fa niente, no è inutile, è inutile uno che non si occupa Adam Smith, che è il padre del capitalismo moderno, dice una cosa altrettanto, non dico banale, ma quasi scontatta, si dice ma l'abbiamo persa, dice Adam Smith, la mano morta, cioè l'interesse individuale, deve potersi esplicare in un contesto di simpatia, che non è la simpatia umana, è di fiducia reciproca, perché se anche tu costruisci la genialità, il brevetto, e dopo non lo condividi perché non c'è nessuno che lo condivide, il tuo brevetto rimane sulla luna, cioè la comunità è il luogo dove l'individuo si realizza. Allora l'Europa deve riscoprire le sue radici che sono comunità, che sono impresa, l'impresa è un bene collettivo perché l'impresa è l'anticamera per il lavoro e famiglia, perché anche questo è un tema che va affrontato, non c'entrano i diritti individuali, la famiglia naturale è quella che procrea, allora l'Europa deve investire di più sulla famiglia che procrea, perché la natalità è anche in termini economici il capitale numero uno della comunità, allora noi, vi do questo dato, nel 50 eravamo 530 milioni di abitanti e il mondo era 2 miliardi e 3, nel 2019 il mondo è 7 miliardi e mezzo e l'Europa è ancora 530 milioni di abitanti, siamo passati dal 25% all'8%, fra poco non contiamo più, quindi allora comunità, impresa, famiglia, le tre parole chiave per ricostruire identità. Gualazzi, le sue tre parole chiave quale potrebbero essere? Le mie parole chiave sono sicuramente la condivisione, la libertà individuale è sicuramente importante fin tanto che non lede la libertà degli altri, quindi in un quadro generico in cui sostanzialmente vengono rispettati i diritti fondamentali di tutti e questi sono garantiti, poi ognuno può fare un po' quello che vuole, non è molto importante, l'importante è che non si vada a ledere i diritti degli altri, è molto semplice, quindi lo stesso discorso per quanto riguarda sia l'emigrazione, tra l'altro non dimentichiamoci che l'Italia è uno dei paesi che è emigrato, i nonni, quindi voglio dire il discorso complessivo che va fatto secondo me è di tenere conto che siamo un soggetto insieme ad altri 7 miliardi e mezzo di soggetti e se non vogliamo continuare come abbiamo fatto fino a ieri, come stiamo facendo ancora oggi con tutte le guerre che ci sono in giro, guerre che non hanno senso se non per arricchire qualcuno e quel qualcuno non è che poi condivida, come dicevamo prima, con gli altri, ma se lo tiene per sé, quindi il discorso della condivisione, io direi che è una unica la parola da sottolineare, la condivisione, se condividiamo progrediamo, altrimenti siamo destinati all'autodistruzione. Olsai, prima l'ho un po' interrotta ma i suoi colleghi mi facevano segno di rispettare un po' la paracondizio negli interventi, lei un pochino nei suoi precedenti interventi ci ha detto qualcosa dell'identità europea, prima il multilinguismo, la possibilità di conoscere, ecco, le vorrei chiedere da dove parte un'identità europea fatta di popoli chiaramente diversi, ma secondo lei dalla tutela dei diritti, da quali diritti, cioè da dove si parte? Io confido nei nostri giovani, vediamo che appunto in tutta Europa vanno sulla strada per richiamare, cioè per invocare la nostra responsabilità, per esempio proprio nell'ambito della tutela dell'ambiente, un tema globale che ovviamente fa vedere a tutti che da singoli paesi membri non ne possiamo fare nulla. Io confido nei giovani perché penso che si rendano conto che un'Europa unita, ricca di bellissime culture, è un patrimonio unico al mondo e dunque il tema della condivisione è fondamentale. Vorrei poi anche evidenziare la responsabilità dei politici a livello nazionale che più delle volte, anziché appunto accertare il default della politica nazionale, cercano di appunto soverchiare tutto il negativo sulla comunità europea per avere un alibi per la propria incapacità appunto di gestire le questioni. Pugliesi Gizzi, allora lei ci ha spiegato che non crede nell'Unione Europea, quindi non le chiedo dell'identità, anche delle radici comuni in questo momento, in questo momento è una forma geografica, noi stiamo parlando con persone, con la Lituania, parliamo lingue diverse, abbiamo usi, costumi, tradizioni e storie diverse, perciò non siamo ancora pronti per un'identità comune, forse fra 500 anni, ma al momento no, però uscire da quest'Unione Europea per noi non significherebbe chiudersi e non parlare più con i vicini e con i confinanti europei. Come il mondo che ci aspetta fuori, che ho citato prima, allo stesso modo potremmo avere i rapporti economico-sociali di condivisione e di collaborazione, ma alle nostre condizioni anche con gli stati attualmente europei, ma non stando sotto questo tipo di Unione Europea, anche perché prima vedo che tutti hanno parlato del fatto che i problemi dell'immigrazione, e lo penso anch'io, nascono a monte, scusate il gioco di parole perché nascono a sud del mondo, perché fino ad oggi, e continuano, sono sempre stati sfruttati, sono sempre stati messi in condizione di non svilupparsi e di non aiutarli a casa loro, non è un bel termine, è collaborare e lavorare con loro perché possano crescere, ma questo non gli è stato stato possibile perché gli stessi poteri, gli stessi interessi, le stesse lobby economiche europee attualmente sono le stesse che in Africa e nel sud del mondo fanno i loro interessi e vogliamo che queste persone cambino, cioè noi vorremmo... Ma lei è a favore degli aiuti internazionali, sa che adesso ci si è aperto il dibattito perché in alcuni stati c'è stato un taglio a riguardo anche in alcune regioni. Ma gli aiuti vanno dati... La cooperazione allo sviluppo interno. Certo, ecco, più che aiuti mi piace più la frase che ha usato lei, cioè di aiutarli a svilupparsi, da portargli il lavoro e creare condizioni affinché possano andare avanti. Sì, su quello sì, ma deve essere un accordo bilaterale, cioè noi dobbiamo decidere a chi, come e che cosa fare. Vi faccio una domanda, approfittando della presenza di Casa Pound, perché è una questione tutta italiana di qualche settimana fa, però chiaramente va alle radici anche di quella che è stata la storia europea. Però vi chiedo proprio una risposta per inciso perché stiamo finendo il nostro tempo e poi ci sarà il vostro appello al voto. Alludo all'esclusione dal Salone del Libro di Torino della casa editrice dell'ultimo libro di Salvini, Altaforte, legata, per il suo proprietario è legato a Casa Pound, Francesco Polacchi, che aveva dichiarato alla Zanzara di essere fascista, di non rinnegare appunto questo suo credo e di ritenere l'antifascismo anche un male per il paese. Ho riassunto genericamente, ma la questione la conoscete. Avreste fatto anche voi la stessa, avreste preso anche voi la stessa decisione poi degli organizzatori di escludere Altaforte o il Zaisen? Allora, per me la libertà di pensiero va tutelata nell'ambito della nostra cornice costituzionale. Tutto quello che è espressione, dichiaratamente di fascismo non può essere accettato. Chiaro. Paroli? Il male non va tollerato, il male va combattuto e il fascismo è male. E' scritto nella nostra Costituzione, non doveva nemmeno essere ammessa, quindi sostanzialmente dovevano precedere il problema, non trovarselo caldo in mano. Casa Pound? Beh, guardi, forse la gente parla perché non sa di che cosa sta parlando, perché se uno va a vedere le pubblicazioni di Altaforte, che comunque è una casa editrice relativamente giovane, non esiste un libro in catalogo che ho qui in tasca eventualmente che parli anche lontanamente di fascismo. Perciò, da questo punto di vista... E riguardo al legato di Casa Pound con... Beh, penso che la dichiarazione di democraticità, noi l'abbiamo sempre data, ci presentiamo alle elezioni, io sono stato democraticamente eletto in Consiglio Comunale a Bolzano, ho preso la mia buona percentuale di voti per entrare insieme ad altri due colleghi in Consiglio Comunale a queste elezioni, pur chiedendo l'uscita dall'Unione Europea per poter agire dall'interno come fece a suo tempo Farange, abbiamo chiesto la risposta popolare, cioè non esiste e per quanto riguarda il discorso della stampa esiste una classico, l'articolo 21 della Costituzione italiana. Su quello si deve basare e si doveva basare l'esserci o non esserci all'interno del salone del libro. È che purtroppo una certa cultura, diciamo, con i suoi piagnistei e con la paura di qualcosa che non è conforme al suo pensiero, ha cercato di farci uscire. la vicinanza a quell'idea, a quel periodo storico. Ma questo è un discorso, sì, ma non... Cioè... Cioè, è evidente. Sì, però voglio dire, non facciamo nulla che sia al di fuori della Costituzione e del normale... Chiarissimo, chiarissimo. Beh, è fuori della Costituzione, comunque, dichiararsi fascisti. Io posso dichiarare di avere un'idea di un certo tipo, però non posso assolutamente quell'idea associarla e dire fascista. Saranno gli altri, eventualmente. Però non posso... C'è un articolo transitorio della Costituzione che dice l'attentata ricostituzione del partito fascista, che è tutta un'altra cosa. Comunque, credo che siamo qui per parlare di altro e non penso che adesso dobbiamo fare un discorso su questo. Chiaramente era una cosa legata alla cronaca che, ovviamente, tenevo a chiedervi, anche perché un po' in questo dibattito abbiamo riflettuto anche e soprattutto su diritti, sul sociale, che magari quando si parla d'Europa non si pone abbastanza attenzione. Noi siamo contro la censura, come partito tirata siamo contro tutta la censura. Certo. Abbiamo magari tralasciato altri aspetti, magari in questo ultimo appello al voto, se volete potete approfittare. Poi chiaramente gli elettori avranno tempo di andare a leggere tutti i vostri programmi, questi pochi giorni che mancano dalle elezioni europee. Allora, siamo all'appello al voto, circa 40 secondi di tempo a testa e iniziamo con Gualazzi. Questa è la telecamera. La missione numero uno del partito pirata europeo, a questo punto, è favorire la transizione ad un'economia sostenibile e collaborativa per il pianeta e per l'umanità, promuovere iniziative, incluse piattaforme digitali, che generino un valore nella comunità locale invece di estrarlo, liberare la conoscenza e combattere l'abuso dei brevetti, inclusi quelli su sementi, vita e medicinali. Sostenere un'agricoltura diversificata e distribuita, disincentivare allevamenti intensivi, contrastare la finanza speculativa per favorire investimenti a medio e lungo termine. O ancora un attimo, possiamo aggiungere che ci assumiamo il compito di informare il più possibile e il più semplicemente possibile come utilizzare lo strumento internet che riteniamo sia fondamentale per il nostro futuro. Questo era in sintesi il programma del partito pirata, nelle parole di Atos Gualazzi. Adesso l'appello al voto di Maurizio Puglisi Ghizzi di Casa Pound. Sì, noi ci presentiamo chiedendo l'uscita, proponendo l'uscita dall'Unione Europea. I motivi li ho spiegati anche prima. Fuori da questa Unione Europea c'è tutto un mondo che ci aspetta, dove possiamo collaborare, riappropriarci della nostra moneta, della nostra economia, delle nostre aziende, ridare la capacità e la possibilità alle imprese e agli italiani di investire nella propria nazione. Riuscire dalla propria nazione vuol dire chiudere anche i confini a chi utilizza l'Italia come una passerella per cercare di andare a Nord Europa e poi però viene costretta a rimanere da noi, dove noi non siamo in grado di mantenerla e chiediamo a tutte quelle persone che sono scontente di questa Unione Europea, spiegandogli che questa volta non c'entra il voto utile, il voto da una parte o da un'altra perché se no vince qualcun altro, è un voto proporzionale e a noi interessa entrare in questo consesso europeo per poter uscire da dentro spiegando alle persone che cosa sta succedendo. Ivo Tarolli per i popolari, per l'Italia. Agli elettori vorrei ricordare, anche se con dispiacere, l'Italia è un paese oggi in ginocchio. L'Europa è un continente in sofferenza, in cortocircuito. L'Occidente non sa bene, ha perso i suoi punti di riferimento. In Italia questo ormai dura da quasi vent'anni. Guarda caso da quando la cultura cristiana popolare è scomparsa, è andata in diaspora, è diventata irrilevante. Quando invece in altri stati, penso alla Germania, la cultura cristiana popolare guida la Germania, il paese industriale più ricco d'Europa. Quindi il pensiero è innovativo, il pensiero è moderno, questa cultura è ancora attuale. In Italia va ricostruita. Noi sappiamo che questa è la montagna da scalare, questa è la sfida che abbiamo di fronte ma è anche un sogno. Quindi alle europee presentiamo i popolari per l'Italia per riportare nella politica questa cultura che serve all'Europa perché l'Europa torni a governare i processi, non a inseguirli, non a esserne vittima ma a guidare i processi lottando senza remore i fondamentalismi ma investendo di più sull'essere parte comunitaria nel suo insieme. Grazie Ivo Tarolli. Renate Olzeisen, l'appello al voto per Più Europa. Più Europa è assolutamente pro-europeista. Siamo un partito social-liberale con una forte coscienza ecologica. Noi siamo un fronte, cioè combattiamo i fascismi, il sovranismo che purtroppo si allarga sempre di più nell'ambito dell'Unione Europea. Vorrei ricordare che proprio ciò che abbiamo scoperto con questo incredibile video che è stato pubblicato il fine settimana scorso riguardo i sovranisti austriaci, quali sono i veri moventi che appunto li spingono. Non certo la tutela dell'economia dei loro rispettivi paesi e non certo gli interessi dei loro cittadini. Dunque confidiamo nei giovani e come donna ricordo soprattutto alle donne, perché abbiamo lottato fino a pochi decenni fa ad avere il diritto al voto, come è importante esercitare tale voto, anche come madri nell'interesse dei nostri figli. Allora, questi erano i nostri ospiti candidati, il loro appello al voto. In queste due serate vi abbiamo proposto una serie di liste, tutte quelle che avevano accettato il nostro invito, le altre ovviamente, come dire, chi c'è ha il diritto di parlare, chi non c'è avrà trovato altri canali. Evidentemente comunque c'è la possibilità ancora per appelli al voto, per far riconoscere i propri programmi fino a domani, poi sabato ci sarà il silenzio elettorale, domenica a parlare saranno i cittadini e noi lunedì saremo qui a raccontarvi cosa hanno detto. Grazie a Renate Olsaisen di Più Europa, grazie ai votaroli dei Popolari per l'Italia, grazie a Maurizio Pugliusighizzi di Casa Pound, grazie a Dato Sgualazzi del Partito Pirata. Grazie a RTTR. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.